Ciao ragazzi, spero riusciate a vedermi bene e spero che non si senta troppo chiasso, sto camminando nel bosco e come vi ho accennato nel video precedente, volevo fare un whispering vlog nel bosco sentirete sicuramente le cicale e gli ocellini vari, c'è anche Bea qui con me, spero sinceramente che non appai perché se no mi rovina tutto quanto e sarà un video breve perché non vorrei rischiare di spaventarvi con qualche strano rumore specialmente tipo me che urlo perché c'è qualche insetto schifosissimo purtroppo non riesco a capire bene cosa state vedendo perché c'è molta luce e non riesco a vedere bene il display ora vediamo se trovo un posticino all'ombra spero che stiate passando delle belle giornate estive anche se c'è un caldo pazzesco ecco, ora riesco a vedermi più o meno spero che mi sentiate bene il microfono della videocamera come sapete è stereo ma non è sicuramente potente quanto un microfono professionale e credo che Bea abbia avvistato un animale spero che non abbai perché altrimenti è un casino eventualmente taglio allora che dire, sono super rilassata perché abbiamo passato il weekend qua nella casa nel bosco, in collina e sarebbe la seconda casa dei miei suoceri e si sta veramente bene perché c'è fresco e anche se nelle ore come questa c'è molto caldo però si supporta molto meglio è molto ventilato e poi la casa riesce a mantenere abbastanza il fresco e che dire, ho mangiato troppo perché il sabato solitamente mio suocero prepara pizza schiacciata e focaccia in casa e quindi è un delirio tra l'altro col forno a legna perciò potete capire che è un disastro per il mio stomaco e per la mia linea perché poi praticamente la pizza non è che ne prepara una a testa ma ogni pizza che esce dal forno viene divisa in spicchi quindi ognuno ne prende una e si perde il conto quindi è probabile che riesca a arrivare a mangiare anche due pizze ogni volta che c'è questo questo pizza party che per noi è ogni sabato perché il sabato è sacro per la pizza di mio suocero e quindi faccio un diretto così vedete più o meno dove mi trovo è un posto molto bello indubbiamente però difficile da mantenere perché la strada nel bosco va curata e insomma ci vuole un sacco di manutenzione perché è un chilometro di strada dentro il bosco praticamente si sale in questa collina c'è una chiesetta e fin lì è tutto asfaltato poi dalla chiesa alla casa c'è un chilometro di strada sterrata nel bosco ed è una strada che va curata perché ad esempio bisogna sempre tenere le fosse dell'acqua pulite perché altrimenti si allagherebbe tutto e quindi specialmente in autunno perché piove continuamente molte volte il terreno frana e bisogna insomma fare un sacco di manutenzione di tutto questo se ne occupa mio suocero e vi potete immaginare che è una bella faticaccia e ogni tanto lo aiuta anche mio ragazzo ovviamente però è comunque una faticaccia mantenere questo posto vi faccio vedere un po' com'è la strada ecco che si deve percorrere per arrivare poi alla alla strada asfaltata che ci porta a casa perché casa da qui sono una quindicina di minuti qui si deve percorrere qui si deve percorrere rieccomi prima ho inquadrato la casa se avete visto è la stradina e qui c'è un cancello che chiudiamo la notte che sarebbe una parte della rete che circonda buona parte della casa anche dall'altra parte perché ci sono i cindiali e fanno danni e quindi la notte si chiude questa rete per evitare che vengano magari a fare casino nel giardino dove ci sono tutte le piantine le piantine anche le piante da frutto eccetera e niente questo è quanto è un'esperienza nuova un video del genere perché non so bene cioè devo rendermi conto di come verrà il whispering all'aperto con questa videocamera perché purtroppo qua non posso portare ovviamente il bluietti il computer qui sulla strada nel bosco sarebbe un casino posso portare lo zoom anche a uno perché è a batteria e portatile non si deve collegare da nessuna parte per funzionare però è un casino perché dovrei reggere la videocamera con una mano lo zoom con l'altra e poi si sentirebbe comunque il continuo movimento della mano di tutto quanto capta rumori anche molto lontani potrebbe captare benissimo anche rumori degli aerei oppure dei lavori che fanno nelle case qua vicino perché ci sono diverse case in questa collina tipo rumori di motoseghe e cose del genere perciò sarebbe un casino però può essere che magari riesca a registrare un video solamente come dire visual trigger e quindi solamente video e poi l'audio a parte il sussurrato nel bosco magari la notte anche se anche di notte passano tanti tanti aerei dovrei trovare proprio un momento propizio comunque iniziamo con questo video poi se vi piace la tipologia ve ne posso realizzare altri nei prossimi giorni considerate che noi veniamo qua più che altro il fine settimana il resto della settimana stiamo a casa giù invece i miei suoceri stanno qui e ci verremo anche per tutto agosto perché loro stanno fino a tutto agosto qui e niente voleva essere un esperimento nuovo e ho visto che qualcuno era già entusiasta all'idea quindi proviamo sempre se pubblicherò questo video perché prima voglio ascoltarlo bene quando lo edito sul computer e poi eventualmente lo caricherò però penso che non ci sia nessun problema si potrebbe sentire qualche cric e crack di pea che rosicchia le foglie secche le pigne eccetera però probabilmente non sono rumori fastidiosi e anzi magari sono anche piacevoli quindi speriamo tra poco è ora di pranzo e ho un po' di fame perché stamattina abbiamo fatto colazione presto alle 8 non ho mangiato nulla a metà mattina perciò incomincio lo stomaco a brontolare e poi dopo pranzo scenderemo a casa giù e così stasera posso eventualmente caricare su youtube questo video per ora ragazzi vi mando un bacio vi ringrazio sempre per tutte le cose bellissime che mi scrivete sia sulla pagina sia qui su youtube vi rinnovo l'invito a mettere appunto il like alla pagina facebook così ci possiamo tenere sempre in contatto e se vi va ovviamente anche di fare un salto nel canale dei vlog sgrammaticando vlog quindi basta ora con la pubblicità perché si rovina tutto il video vi mando un altro bacio enorme ansi devo rifare assolutamente le unghie quindi forse prossimamente se domani ne ho voglia se ho voglia di fare le unghie mi vedrete con le unghie nuove perché è decisamente il caso di rifare e niente ci vediamo al prossimo video ragazzi ciao 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 ciao